Benvenuti ad una nuova edizione del TG7, vediamo insieme quelle che sono le principali notizie di oggi. Partiremo da Fondi, dove in vista dell'inizio del servizio della raccolta differenziata, l'amministrazione comunale sta facendo visita alle scuole con una campagna informativa per i più piccoli. Ci sposteremo ad Itri con l'arrivo del ministro dell'ambiente Galletti. Ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia e con la redazione di 26lettere.it, testata che si occupa di editoria, cultura e innovazione. Parleremo di Gustiamoci Monte San Biagio, un progetto finalizzato alla promozione del territorio e del turismo. E ci occuperemo del convegno nazionale Il benessere dell'abitare, organizzato dall'Anaci Latina. Apriremo la pagina sportiva con la ventesima edizione della Marathon Monti Ausoni e Lago di Fondi. Tutto questo e molto altro tra poco al nostro TG. Bentornati al TG7. In vista dell'inizio del servizio della raccolta differenziata, ieri mattina il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, l'assessore all'ambiente, Roberta Muccitelli, e l'assessore alle politiche della scuola, Beniamino Maschietto, si sono recati nei plessi scolastici San Magnorene, Salto, Casa Bianca, per donare ai bambini degli alberi cartonati ad altezza naturale. Da posizionarsi nel latio degli istituti, raffiguranti l'immagine simbolo della campagna di comunicazione, con la figura stilizzata di alcune tipologie di rifiuti, il colore del rispettivo conferimento nell'apposito contenitore domestico e lo slogan è tempo di raccolta. A Fondi inizia la differenziata porta a porta. Nei prossimi giorni i rimanenti alberi saranno consegnati in tutte le scuole della città. L'iniziativa fa seguito agli incontri informativi Impariamo a Differenziare, che hanno interessato tutti gli istituti scolastici di Fondi, con la partecipazione di circa 5.000 studenti e precede di pochi giorni la consegna a domicilio agli utenti del kit per la raccolta dei rifiuti. Intanto, sempre a proposito della raccolta porta a porta, il sindaco De Meo fa sapere che in questi giorni i cittadini stanno ricevendo una lettera che illustra sinteticamente le tappe che porteranno ad adottare su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata porta a porta. Da oggi, presso tutte le utenze domestiche e non domestiche, a partire dalla zona collinare per poi proseguire nel centro cittadino e terminare nella fascia a mare, saranno consegnati i kit di raccolta ed il materiale informativo per l'attuazione della differenziata. Gli informatori si occuperanno, utenza per utenza, di illustrare le nuove modalità di conferimento. Parallelamente saranno organizzati specifici incontri divulgativi con associazioni, parrocchie, comitati di quartiere, artigiani e titolari di attività commerciali, preceduti da un primo incontro pubblico che avrà luogo nei prossimi giorni presso il Castello Caetani. Spostiamoci ora a Itri, dove a pochissimi giorni dalle elezioni amministrative la campagna elettorale entra nel vivo e i big scendono in campo a partire dal Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti che raggiungerà mercoledì 25 maggio il Comune Aurunco. A comunicarlo è un comunicato stampa congiunto a firma di Aristide Iacotucci, segretario Udc ed Elena Palazzo, candidato sindaco per la coalizione Itri Nostra, Udc e noi con Salvini. Mercoledì sera, esordisce il dottore Iacotucci, il Ministro Galletti sarà Itri per sostenere la candidatura di Elena Palazzo a sindaco del Paese. Annunciamo con orgoglio questo appuntamento che si svolgerà alle 19.30 presso il Palazzo Comunale. L'attenzione che il Partito ha mostrato nel tempo per il nostro territorio continua a Iacotucci e la presenza di un Ministro del Governo in un centro di 11.000 anime dimostra l'attenzione che lo stesso ha non solo nei nostri confronti, bensì nei confronti di tutti i cittadini di Itri. Colleghiamoci ora con la nostra redazione, dove per noi c'è Riccardo Antonilli che ci parla delle principali notizie di oggi dalla provincia. Grazie per la linea, Valentina. Noi partiamo dal caso di cronaca eclatante di questi giorni perché emergono nuovi particolari agghiaccianti sulla morte di Anna Recalcati, la donna di 69 anni trovata ucciso nel suo letto al sesto piano del civico 33 di via Pisacania Latina. La vittima, infatti, sarebbe morta almeno 24 ore prima del suo ritrovamento. E' quanto emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sul suo corpo in attesa dell'esame autoptico ad ucciderla il marito Ernesto Cardosi, di 72 anni, che dopo aver esploso un colpo di pistola a tamburo regolarmente detenuta e trovata in casa dai carabinieri durante il primo soprarruogo, è rimasto accanto alla vittima, perduto nei suoi pensieri per un giorno intero. Restiamo alla cronaca. Fiamme dolose nella notte a Borgo Ermada, a Terracina. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro un centro estetico in via Vaccareccia al Civico 12. Fortunatamente il rogo è rimasto limitato alla sola porta d'ingresso. I vigili del fuoco della squadra 3A sono prontamente intervenuti, riuscendo a spegnere subito l'incendio. Si indaga sulle cause. E concludiamo con un altro incendio. Sono andate a fuoco tre auto nel parcheggio alle spalle del centro commerciale Latina Fiori. L'incendio ha interessato una Mercedes, una Toyota e una Citroen C3. Sul posto a luna di notte i vigili del fuoco della squadra 1A e la polizia. Non si esclude neanche in questo caso la pista dolosa. Bene, chiudiamo qui. Io ti restituisco la linea. Grazie Riccardo. Gustiamoci in Monte San Biagio. È il progetto approvato dall'amministrazione comunale del sindaco Federico Carnevale, finalizzato alla promozione del territorio. Un brand per il turismo dunque, all'insegna di nuove collaborazioni tra l'ente e i privati. Sono sette gli appuntamenti già in programma tra luglio e agosto, seminari e workshop incentrati sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Heart is Art è il concorso di fotografia indetto dal Rotaract Club Terracina Fondi, in Inter Club con il Rotary Club Terracina Fondi e con il patrocinio della Commissione per l'azione di pubblico interesse del distretto Rotaract 2080. Rispetto a quanto stabilito inizialmente, il termine ultimo per l'iscrizione al concorso è stato prolungato a mercoledì 25 maggio. Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare le persone nel rispetto della natura attraverso la promozione delle bellezze naturali che la terra offre. Il ricavato verrà devoluto per l'acquisto di un defibrillatore da donare al Palazzetto dello Sport della città di Fondi. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro sito tvcanalesette.it. Spostiamoci ora a Sperlonga, dove si rinnova anche quest'anno e per il quinto anno consecutivo presso l'albergo La Playa, a partire dalle ore 17 del giorno 27 maggio, il consueto incontro organizzato da Anaci Latina sulla tematica Il benessere dell'abitare, dove verranno sintetizzati alcuni concetti legislativi sulla normativa del risparmio energetico sugli edifici, oltre alla rappresentazione sul piano pratico delle soluzioni proposte dall'abrianza plastica spa ed in particolare attraverso la facile posa in opera del prodotto Isotec per i tetti ventilati. Relatore dell'appuntamento sarà l'ingegnere Giuseppe Noccaro. Anaci è la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa 8.000 amministratori di condominio, amministratori professionisti che seguono nelle varie città dai 50 ai 150 condomini, ciascuno e solo nella provincia di Latina vanta 70 iscritti. Apriamo la pagina sportiva e restiamo sempre a Sperlonga, dove domenica 22 maggio ha avuto luogo il primo memorial di pesca sportiva dedicato a Leone Toscano, giovane del posto scomparso un anno fa. Hanno partecipato più di 60 persone divise in 14 imbarcazioni che hanno preso il largo alle 6.30 di mattina per raggiungere i fondali della secca, noto punto pescoso del braccio di mare tra Sperlonga e Fondi. Regola della gara, l'utilizzo della tecnica del bolentino. Organizzatori del memorial e il team dell'associazione per i festeggiamenti dei Santissimi Leone e Rocco di Sperlonga sono stati pescati ben 80 kg di pesce e ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team di Nazareno-Faiola, secondi classificati i componenti della squadra di Giulio Fallovo, mentre il terzo posto è stato assegnato al gruppo di pescatori con a capo Filippo Di Lelio e Gianni Battista. La premiazione si è svolta presso il ristorante Campeggio La Califfa, alla presenza della moglie di Leone Toscano, la signora Anna, e delle figlie Casia e Giulia, con loro anche la mamma del compianto Leone, la signora Katia e il nipotino Leone, chiamato così in onore dello zio scomparso. Una giornata di forti emozioni per tutti. Domenica 29 maggio Fondi ospiterà la ventesima edizione della Marathon Monti Ausoni e Lago di Fondi, un evento organizzato dall'ASD Ciclo Amatori Fondi, rivolto a tutti gli appassionati di mountain bike. La giornata prenderà il via alle ore 7.30 con il raduno presso Villa Demetriana a San Magno in Via Rene, ed entrerà nel vivo intorno alle ore 10 con la partenza dei ciclisti. Si potrà scegliere tra tre diversi percorsi, percorso Marathon di 62 km, il Point to Point di 45 km e il percorso cicloturistico di 32 km. La giornata terminerà con il pasta party e con le premiazioni. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito dell'evento www.marathonlagodifondi.it e all'indirizzo e-mail cicloamatori-fondi-libero.it Colleghiamoci ora con la redazione di 26lettere.it, testata che si occupa di editoria, cultura e innovazione, dove per noi c'è Greta De Filippis. Grazie Valentina. Sarà il Palazzo M di Latina ad ospitare la prima mostra in loco del sociologo e docente d'arte Eugenio Tosi, dall'inconscio al segno, dal segno all'inconscio, che si terrà dal 21 al 29 maggio 2016, un lungo viaggio interiore tra terre lontane e demoni dell'inconscio. Classe 1954, Eugenio Tosi è docente di educazione artistica e storia dell'arte. L'arte, la psicologia, il teatro e il cinema sono le sue grandi passioni. Si terrà invece venerdì 27 maggio 2016, presso il settecentesco Palazzo Braschi, nel cuore della Roma rinascimentale barocca, il finissage della mostra La figura nera aspetta il bianco, di Mario Giacomelli, una grande raccolta antologica, composta da circa 200 lavori originali del grande fotografo italiano, scomparso nel 2000. Durante la giornata, un'originale visita guidata con Alessandro Mauro ed il sassofonista Stefano Dillio accompagnerà i presenti in un vero e proprio viaggio attraverso scatti che raccontano di una vita dedita alla fotografia. Sempre a Roma, presso il Cinema Chino, in via Perugia 34, dal 25 al 27 maggio 2016, si terrà la prima edizione di Remix, la rassegna cinematografica in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Dipartimento Scienze Umane e Sociali Patrimonio Culturale, che coniuga racconto cinematografico e approccio scientifico sul tema dell'emigrazione e della convivenza. La nostra rubrica termina qui al prossimo appuntamento con 26lettere.it Grazie Greta. Il nostro Tg termina qui. Vi ricordo che per suggerimenti e segnalazioni potete mandare una mail all'indirizzo redazione-tvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it dove troverete tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti. Vi ricordo ora gli orari in cui andrà in onda il nostro Tg. 7.50, 13.50, 18.50, 20.50 e 23.50. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie per aver guardato il nostro Tg.